Esultare. Esultare è slancio, è energia allo stato puro che si sprigiona tutta insieme in una grande gioia. È fare festa, lasciando al corpo la libertà di esprimere questa enorme felicità come meglio crede. C'è chi canta, c'è chi balla, c'è chi grida, chi salta. Nell'esultanza si esprime tutta la tensione dell'attesa, di qualcosa di bello che vorremmo accadesse, ma che non si sa come, quando, né dove e né se succederà. Esultare è sentirsi liberi di esprimersi, senza vergogna e senza nessun tipo di paura, perché quella gioia così grande, così attesa, ma anche così inaspettata, è una gioia liberante. L'esultanza accende la memoria, perché il ricordo di quel momento rimarrà indelebile nella vita, ne si ricorderà ogni attimo, ogni persona, ogni luogo. È bello quando esultiamo, perché è qualcosa che accade a noi, ma altrettanto bello esultare e esultare gioire per l'altro, perché è come se entrassimo pienamente in empatia con lui, con il suo vissuto, con il suo trepidare e il suo sentirsi finalmente libero. Esultare, infatti, è anche condivisione, perché questo momento non è solo un momento personale, ma è anche di tutti coloro il cui cuore palpita e freme per quell'attesa. In quel momento ci accordiamo con gli altri in un'unica melodia. Siamo tutti sulla stessa lunghezza d'onda. Siamo pronti a fare festi insieme, nessuno escluso, perché ci sentiamo parte di un'unica grande armonia che ci fa stare bene e ci unisce. In questo essere melodia e in questo accordarsi possiamo trovare finalmente il modo più vero e autentico dell'essere comunità.